A me mi incanta Marvel, sape Marvel? Spiderman, non sei così. Il nome è Rani, di chi è? Listo, come lo evo? Questo è tutto sussido. No, se non ti preoccupavo se mi aiutavano a limpiarlo. Non ti preoccupavo, ma non ti preoccupavo. Non ti preoccupavo, perché le tre sono quello che non ti preoccupavo?